C'è posta per te e è ritornato a tenere compagnia agli italiani, regalando emozioni attraverso le sue toccanti storie e gli ospiti d'eccezione. Tuttavia, dietro le quinte si verificano eventi che solo coloro direttamente coinvolti possono narrare. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire cosa è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. In questo caso, si tratta di un imprevisto sconvolgente che ha coinvolto la affascinante postina del programma, Chiara Carcano. In una dettagliata intervista concessa a Fanpage.it, ha condiviso l'episodio accaduto durante la consegna della posta. È stata proprio Chiara, dialogando con Fanpage.it, a svelare che i postini non sempre vengono riconosciuti e che una donna ha addirittura richiesto l'intervento della polizia per allontanarla. Sono imprevisti da considerare per chi svolge il suo mestiere. Un lavoro tutt'altro che facile, contrariamente a quanto possa sembrare inizialmente, dato che bisogna affrontare la diffidenza delle persone, che in alcuni casi possono richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Nonostante tutto, alla fine, con un sorriso, la postina racconta che, a parte questo episodio di Ceposta per te, è molto amata dal pubblico che ha apprezzato la sua semplicità, educazione, empatia e bellezza. Consegnare le buste non è un compito facile, ma presentarsi al destinatario con entusiasmo quando qualcuno si affaccia alla finestra rappresenta già un ottimo punto di partenza. Per il resto, bisogna essere pronti a tutto, come pare. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.